ciao a tutti e bentornati questo è il turno degli studenti un format di nurse 24 gestito da noi studenti di infermieristica io sono federico e con me oggi c'è mattia ciao a tutti e bentrovati ciao fede ciao mattia allora nel turno scorso abbiamo conosciuto matteo e stefania due infermieri che lavorano all'estero in germania in inghilterra e abbiamo un po approfondito la loro realtà oggi invece andremo alla scoperta delle missioni umanitarie infatti siamo con sarà dal dia la responsabile del team infermieristico di medici senza frontiera benvenuta sarà e grazie di aver accettato il nostro invito ciao grazie a voi dell'invito ciao Sara allora prima di cominciare spieghiamo un po' che cos'è medici senza frontiere è un'organizzazione internazionale che in maniera indipendente imparziale e neutrale fornisce da ben 50 anni aiuto in tutto il mondo a migliaia di persone colpite da catastrofi naturali conflitti epidemie o che comunque non possono soffrire dell'assistenza sanitaria detto ciò ringraziamo Sara che ci farà scoprire un po' questo questo grande mondo di medici senza frontiere e prima di partire vi ricordo che se avete domande e curiosità potete scriverci e cercheremo di rispondervi in in diretta e possiamo cominciare con il turno e quindi cominciare con le domande allora Sara prima di tutto due domandine che diciamo sorgono un po' spontanee come mai hai deciso di lavorare con medici senza frontiere e come hai conosciuto questa realtà allora grazie è da tanto tempo che conosco medici senza frontiere da tanti anni e però ho avuto la fortuna di di conoscerla tramite dei colleghi nei miei primi nei miei primi tirocini da infermiera ho conosciuto due colleghi che mi hanno lasciato il segno uno è miguel che ha lavorato tanto come ci senza frontiere l'altro è valerio e entrambi lavoravano con me anzi uno mi ha anche affiancato l'animazione pediatrica e mi hanno raccontato la loro la loro esperienza e sono andata degli incontri di medici senza frontiere mi hanno un po' segnato e la spinta c'è sempre stata però cioè la voglia di di conoscere il diverso di la voglia dell'altrove questo senso di di anche di percezione dell'ingiustizia del di un malessere c'è sempre stato e quindi sapere che nel mio piccolo avrei potuto fare qualcosa mi ha sempre spinto a essere curiosa a provare a farlo quindi grazie all'aiuto diciamo al racconto di queste esperienze ha detto vabbè proviamoci e facciamolo ma inizialmente non ti spaventava un po l'idea di lasciare ad esempio un ambiente protetto come l'ospedale comunque quello a cui siamo abituati certo sì cioè spaventa sempre è normale e spaventerà ancora ed è un po la paura di la paura di non essere abbastanza la paura di sì so fare queste cose ma le so fare nel mio nel mio piccolo nel mio contesto con le persone che ormai mi conoscono quindi essere buttati in un ambiente in cui non conosci nessuno ti devi di nuovo di nuovo ridimostrare tutto poi un'altra lingua con una cultura diversa spaventa cioè sarebbe strano che non spaventasse però come però è la prima volta come superato tutta questa paura cioè detto che fatto la prima volta è stata un po un'esperienza di volontariato che consiglio di fare a tutti perché magari invece di partire subito con un'esperienza lunga una piccola esperienza di volontariato da infermiere è molto bella e utile per aiutare un po tutte le onlus e sì c'era un po di adrenalina un po di di paura dell'ignoto però poi diventa la scoperta dell'acqua calda cioè dopo ti accorgi che è meraviglioso e che lo sapevi che era meraviglioso e e perché non l'hai fatto prima cioè la mia mio consiglio a voi è di farlo prima di farlo appena appena ne sentite il desiderio cioè dopo aver fatto l'esperienza erano paure un po infondate diciamo sì è giusto che ci siano però un po di ansia un po di ansia è giusto che ci sia però quello che poi vai a a dare e a ricevere è tantissimo e si sgretolano tutte le paure ne vale la pena si puoi andare anche a diecimila chilometri ma alla fine gli sguardi i volti delle persone li trovi lo stesso trovi lo stesso il legame la connessione anche senza parole quindi bello bello sappiamo che si è appena tornata dalla sierra leone quali sono state le le difficoltà più grandi che trovato durante questa missione allora è strano dirlo perché è una missione in africa quindi non forse non avete questa idea però la mia difficoltà più grande essendo impedita a livello informatico se ce l'ho fatta io ce la possono fare tutti la mia più grande difficoltà è stata visto che il ruolo è molto gestionale la raccolta dati a livello sanitario quando dovevo raccogliere i dati per la copertura vaccinale trasmettere questi dati insomma tutta la parte informatica excel di raccolta dati che non avevo mai fatto è stata il primo scoglio non è stato un scoglio linguistico culturale sono stata accolta benissimo è stato tutta questa tutto questo lavoro informatico che mi era stato dato che mi aveva un po spiazzato e mi ha spaventato un po all'inizio la parte gestionata mentre l'esperienza più bella e l'esperienza più brutta che hai vissuto durante la missione allora esperienze più belle sono tante io non avevo mai lavorato con i bambini malnutriti è stata la prima volta che ho visto bambini malnutriti con malnutrizione acuta grave e ci sono tanti casi che potrei condividere ne condivido uno Ibrahim che era un bambino di due anni e questo bambino aveva questa manifestazione acuta di malnutrizione che si chiama quashakor in cui il bambino è tutto edematoso per carenza di proteine e non l'avevo mai visto quindi tutto ricoperto di lesioni non camminava perdi proprio il pigmento dei capelli quindi di colore ma coi capelli biondi senza colore tristissimo è proprio una fase tipica del bambino con quashakor con questa presentazione non camminava la madre anche molto molto depressa è stato da noi qualche settimana e vede è proprio ho potuto vedere i risultati i risultati del nostro lavoro quindi quella è stata una grande soddisfazione una delle tante e l'altra soddisfazione è stata eravamo quasi a fine ero quasi alla fine missione quindi è stato poche settimane prima di partire c'è stata una giornata in cui abbiamo portato una ragazza in reparto tra l'altro una ragazza italiana norina che suona la fisiarmonica è entrata in reparto ho iniziato a suonare davanti alle alle mamme e questi bambini malnutriti e si sono alzate tutte abbiamo iniziato a ballare quindi sì è stato un momento in cui diciamo mi sono resa conto veramente di dovero di cosa stavo facendo parte mi sono proprio sentita parte di qualcosa di cui vado fiera e quindi è una bella una bella è bello essere fiero il proprio lavoro se poco da sarà mentre tu eri eri in missione noi in italia eravamo nel pieno non della seconda e terza ondata del covid come avete vissuto questa questa epidemia da voi allora sentivo continuamente notizie da caso ovviamente io ho vissuto solo la prima ondata e poi sono partita qui non ho vissuto le altre ondate covid e ero ben consapevole infatti dell'isolamento in cui stavate vivendo e del carico di lavoro anche come infermieri però in sia la leone nella zona in cui abbiamo in cui è stato costruito l'ospedale di me senza frontiere è una zona kenema distretto di kenema vicino alla liberia è una zona di giungla praticamente quindi siamo a sette ore dalla capitale non lontanissimo dalla guinea non lontanissimo dalla liberia e ci sono stati dei casi di ebola vicini in guinea e quindi c'era tutto un altro c'era tutto un altro clima cioè sapevamo che c'era il covi ci sono state persone che sono state portate a fare il test in capitale ma ci sono altre malattie più presenti e e ben peggiori che miettono molte più vittime anche solo la malaria che è il primo killer bambini adulti della zona è una zona iper endemica iper malarica e quindi l'altra cosa infatti abbastanza frustrante e una delle cose peggiori era veder morire oggi per malaria bambini che arrivavano in ospedale con due di moglobina il proprio soccorso quindi mamma quelle abbiamo perso sì sentire queste cose è forte è forte sì veramente è un po impattante poi comunque a me piace stare con i bambini e sentire queste cose un po è tosta no sono anche tanti successi comunque ecco non sì sì però comunque è tosta ribadiamolo e io volevo farti una domandina no perché sappiamo che sei responsabile del team infermeristico di medici senza frontiere no quindi cosa si occupa dell'infermiere in medici senza frontiere e quali sono i requisiti che uno deve avere per lavorare con voi allora è responsabile del team infermeristico quando uno parte con medici senza frontiere può avere diversi ruoli come infermiere e nel mio caso ero supervisore del team infermeristico sì e quindi ho lavorato con con altri supervisori nazionali quindi si era leonesi e il mio ruolo era quello di cercare di sviluppare di implementare nuove nuove procedure nuove nuove attività o correggere quelle che non che non funzionavano quindi sicuramente all'inizio ruolo è quello di farsi da parte e capire come si lavora prima di andare prima di buttarsi dentro cambiare le cose esatto perché c'è da tenere presente che loro ogni sei otto mesi o anche meno cambiano il personale quindi poveretti sono anche abituati a continuamente doversi rapportare con internazionali diversi una volta posso essere io una volta può essere non so uno svedese una volta può essere un americano una volta può essere un sud africano quindi ogni volta con dei 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 una forma mentis diversa quindi con calma fare cambiamenti e però sì ruolo è completamente diverso dal dal lavoro e quando si è dentro alla missione proprio quindi una volta che si è organizzato tutto dentro la missione l'infermiere fa cosa cosa fa alla fine bella domanda allora è stato è un tratto un po difficile a volte da capire all'inizio quando si arriva in missione che cosa fa in msf in medi senza frontiere perché ha tantissimi ruoli però io in generale vi posso dire che un ruolo nella missione che ho fatto io è un ruolo più gestionale organizzativo poi dipende da dalla missione se è una missione che affronta un contesto di conflitto se è una carestia se è una campagna vaccinale io vi posso raccontare quello che è una giornata tipo racconta allora inizio turno sette e mezza essere già cambiati in ospedale prendiamo consegne ero io chars e maria tu che sono gli altri due supervisori si era leonesi con cui lavorava iniziamo quindi il giro di consegni in cui ascoltiamo il turno di notte sono gli infermieri gli assistenti sanitari e il medico che ha fatto notte riceviamo consegne scriviamo quali sono i pazienti quali sono i pazienti più gravi come sono le priorità dopo aver ascoltato le consegne ci accordiamo con il medico su quali sono i trasferimenti su quali sono le priorità le medicazioni da fare durante la giornata questo reparto di cui vi sto parlando è un reparto che gestisce i bambini malnutriti quindi è la terapia di rinutrizione di malnutrizione acuta questo per dare un'idea e dopo ci si divide fra supervisori i compiti c'è un supervisore amministrativo e uno clinico questo è come era organizzato il lavoro nell'ospedale di Kenema e supervisore clinico appunto si occupa di supervisionare gli infermieri lavorare con loro seguire non solo le simulazioni di emergenza che facevamo ogni settimana riorganizzi il carrello dell'emergenza riorganizzi tutte le le varie armadi le varie cose che ogni giorno cercavamo di di rifornire e segui gli infermieri durante il loro lavoro anche solo controllare che si è eseguita la terapia controllare come vengono scritte le le consegne quindi è proprio un più un lavoro spalla spalla in cui le supervisioni e cerchi di migliorarne il di migliorarne il lavoro se vengono ad esempio ritrovati degli errori sistematici tipo le consegne a volte sembravano dei libri in cui non si trovava poi la il succo esatto è stato fatto uno schema per riuscire a schematizzare cioè cose abbastanza basilari che probabilmente un infermiere che lavora da qualche anno magari in italia riesce a notarle guardandoci però devi prima lavorare con loro l'altra cosa che faceva invece più l'infermiere amministrativo e supervisore amministrativo è la gestione della farmacia quindi anche questa cosa completamente nuova abbastanza catastrofica all'inizio nel senso che gestire la farmacia è una responsabilità cioè hai la chiave della farmacia tutti i farmaci tutti i materiali che altrimenti scomparirebbero diciamolo quindi vengono messi vengono messi in uno stock di cui tu hai la chiave e ogni giorno metti fuori a seconda delle dei bisogni quindi hai una un registro in cui tu registri ogni cosa che metti fuori in questa armadio delle 24 ore che è il reparto rifornisci tutti questi materiali e ogni giorno vedi a seconda delle esigenze a seconda delle prescrizioni dei farmaci che vengono fatti ai pazienti che non spariscono antibiotici che non spariscono i vari latti c'è una stanza tutta una stock room tutta di latti in polvere anche quelli sono rivenduti molto molto facilmente qui sono anche ruoli appunto vi dico amministrativi e gestionali per questo per il contesto in cui si è in cui c'è una grande grande responsabilità comunque i chiavi della farmacia in un contesto del genere non è non è semplice cioè una bella responsabilità diciamo sì ogni supervisore ha la sua stock room c'è la sua stanza di farmaci che viene rifornita ovviamente gli ordini essendo internazionali bisogna registrare i consumi altrimenti poi non si riesce a fare una previsione di quello che sono i consumi si resta senza quindi ci c'è anche tutta una parte di dati di gestione dei dati che è presente e la parte di insegnamento molto bella in cui si cerca di capire continuamente quali sono i bisogni per esempio un'altra ragazza io facevamo abbiamo riorganizzato i carelli dell'emergenza che non erano non erano presenti tutti i reparti e abbiamo anche organizzati in modo molto molto semplice abcd e quindi airway breathing circulation tutta la in modo molto visivo schematico fatto una checklist quindi ogni notte venivano controllati cosa che prima non era fatta e abbiamo organizzato delle simulazioni settimanali per cercare di iniziare a capire che cos'è questa emergenza che non la vedono mai quindi ovviamente non non riescono a giustamente non non facendolo mai però cose molto basic cioè niente di straordinario a seconda dei bisogni fare per pianificare degli interventi un po diciamo il supervisore può essere paragonato al coordinatore infermieristico che abbiamo poi noi nei vari reparti simile sì mi sono trovata anche a fare i turni male ma li ho fatti comunque sì è per questo che è stato difficoltoso all'inizio perché hai talmente tante sfaccettature tante cose da fare che se mi chiedi qual era il mio ruolo ci sono tanti è difficile da inquadrare allora perché mi è presa un po di cioè se io mi volessi candidare no sì come faccio a candidarmi e quali sono i requisiti che mi servono perché dopo tutti questi racconti un po di di voglia era era lo scopo allora innanzitutto la motivazione e ci deve essere una motivazione per partire come senza frontiere almeno due anni di esperienza lavorativa autonoma poi sei in un paese in via di sviluppo ancora meglio però è un surplus potrebbe essere anche un'esperienza lavorativa italiana e la conoscenza della lingua inglese o francese o tutte e due ancora meglio a livello b2 minimo e surplus sono il corso di professionamento in medicina tropicale che vi consiglio che sarebbe molto utile ed è molto bello e poi requisiti un po personali sono la capacità di adattamento sicuramente la capacità c'è un apertura un po mentale non essere una persona che giudica l'altro mettendosi al centro ecco non prevaricare l'altro questo è una vita quotidiana nel nostro quotidiano riuscire a lavorare in team è un'altra un surplus sarebbe avere già esperienza proprio di di gestione di un team però per esempio io l'unica mia esperienza è semplicemente di di lavorare da anni come tutti gli infermieri poi che lavorano nel di solito lavori in team quindi cooperi con gli altri ecco riuscire essere in grado di collaborare con gli altri senza prevaricare questa è una buona deve essere un'attitudine necessaria visto che vai a collaborare con persone con cui hai un gap culturale importante ad esempio in sierra leone c'è una storia insomma abbastanza complessa tra schiavitù era civile insomma andare a metterci anche magari un carattere un po particolare o prepotente o che prevarica l'altro ecco renderebbe difficoltoso il tutto non è il massimo diciamo no però con una buona attitudine in realtà dai dai tantissimo e ricevi tantissimo sì sì e riesci a dare il contributo sarà oltre gli infermieri non ci sono altre figure che medici senza frontiere cerca per le sue missioni tantissime tantissimi non sanitari il progetto di chene ma per esempio è ci sono più di 60 espatriati nel progetto comunque un ospedale che ha la terapia intensiva pronto soccorso il reparto di malnutrizione la pediatria si sta allargando facendo anche la maternità e la sala operatoria e la neonatologia quindi è una struttura molto grande quindi ovviamente oltre alle figure sanitarie che tra l'altro stanno diminuendo perché si sta cerchiamo di far crescere il personale locale quindi gli espatriati diminuiscono però ci sono tantissimi tecnici dalla ingegneri logisti di ogni tipo dal punto di vista energetico dal punto di vista elettrico informatico ma una una grande squadra di logisti nella quale metto tutte le le figure che ricoprono ruoli tecnici cioè di supporto di tutta la struttura senza senza i quali non andrebbe avanti l'ospedale quindi ingegneri architetti poi lavoravano anche alla costruzione della maternità e oltre a infermieri e medici cercano anche psicologi eh nel nel campo delle risorse umane ad esempio eh erano presenti anche figure laureate in in economia per esempio quindi sì tutti quelli che gestivano la la parte delle delle risorse umane quindi l'ufficio che si che si occupava di dell'aspetto disciplinare del reclutamento quindi sono ovviamente tante le figure che che vengono richieste da medici senza frontiera anche non sanitarie sì sì mentre la relazione con l'attuale datore di lavoro no nel senso tu per esempio sei un'infermiera che lavora per un asl come ti relazioni col tuo datore di lavoro nel momento in cui decidi di partire per una missione allora io sono stata fortunata non comunque sì non ho avuto nessun problema a partire ma vale per tutti ecco non solo per me nel senso che lavorando nel pubblico eh si può fare eh richiesta di aspettativa non retribuita eh questa domanda viene inoltrata all'agenzia eh di cooperazione allo sviluppo e quindi eh questa una volta che si riceve risposta dall'agenzia questa domanda viene inoltrata da medici senza frontiere una volta che si riceve la risposta viene allegata alla richiesta di aspettativa e viene inviata alla direzione dell'ospedale dove lavorate quindi è un'aspettativa ministeriale che viene accettata quindi un dipendente pubblico può fare richiesta sì perfetto sì assolutamente sì la differenza è quella cioè con un'organizzazione non governativa eh si può accedere come come appunto è MSF medici senza frontiere si può accedere a questa aspettativa ministeriale quindi eh si è molto tutelati si si tiene il proprio posto di lavoro e si può partire bene tornando al discorso di prima no allora mi sono candidato eh ho tutti i requisiti no e sono entrato nel team di medici senza frontiere la preparazione alla missione come come funziona allora la preparazione alla missione eh una volta che si viene reclutati quindi una volta che abbiamo detto ok ci sono tutti questi requisiti e ci si ci si può eh candidare dal sito MSF.it lavora con noi una volta candidati quindi una volta che si fa ehm si invia il curriculum si spiega le motivazioni si fa questo colloquio ehm la preparazione praticamente si attende che venga assegnata una missione eh si può accettare questa proposta o si può anche rifiutare e aspettare un'altra proposta eh si viene seguiti dalla dall'ufficio delle risorse umane dallo psicologo eh si viene seguiti anche dal medico che ti consiglia i vaccini da fare una volta accettata una proposta di missione quindi a seconda del luogo in cui devi devi andare eh una volta accettato si fa una preparazione vaccino eh conversazione eh con uno psicologo e preparazione del tutto tutta la la documentazione che può essere dal passaporto rinnovato alla alla visa eh al permesso di lavoro insomma tutta una serie di documenti che servono per poter lavorare in quel paese poi si fa un briefing anche con Bruxelles quindi non solo con la sede MSF di Roma ma anche con il centro operativo di Bruxelles che sono collochi un po' più operativi e e ti viene dato anche del materiale ad esempio a me è stato dato molto materiale eh da studiare sulla malnutrizione e si è aperto tutto un mondo c'è un portale immenso di Medici Senza Frontiere con del materiale e un portale di studio bellissimo in realtà in cui puoi fare continuamente corsi di aggiornamento con loro quindi è molto bella anche la parte eh formativa e di conoscenza a cui accedi i portali anche perché magari toccano degli argomenti che all'università difficilmente vengono toccati ma una volta che si parte no c'è un tempo minimo e un tempo massimo in cui si può restare in missione e si può chiedere di abbandonare la missione prima del previsto? Allora sì abbandonare la missione prima del previsto per motivi ehm cioè per motivi eh sensati quindi per vari motivi validi eh sì assolutamente sì certo quindi non non ti posso dire un tempo minimo di prima di lasciare una missione se uno sta male assolutamente tempo minimo di missione di solito è sei mesi eh soprattutto la prima missione perché eh devi avere un po' di tempo per adattarti a un contesto del genere non ti puoi non puoi pretendere in tre mesi di riuscire a dare qualcosa devi prima adattarti e riuscire a capire dove sei qual è il lavoro eh cosa fai e poi puoi apportare le modifiche e lasciare un contributo e riuscire a a essere utile no quindi per questo di solito è sei mesi di solito poi se parliamo di ferristi eh lì è un altro magari riesci a fare anche missioni più brevi ah ok se hai un un target specifico tipo vai in sala operatoria e fai il tuo lavoro e lo fai puoi essere disponibile per due mesi ci sono casi in cui sono missioni brevissime no pure una settimana ma invece non c'è un tempo massimo quindi cioè tu stai là e pure un anno sì 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 anche due anni sì 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 la cosa un po' brutta un po' frustrante a volte quando mi hai chiesto le cose negative mi è venuta in mente anche quella ehm l'esperienza negativa in sé nella missione è il fatto di dover lasciare cioè il fatto di ti adatti ti prepari a partire psicologicamente parti arrivi ti adatti conosci tutti ti riesci a inserire riesci a creare legami e poi c'è un po' la cosa che è una cosa bella è una cosa eh brutta allo stesso tempo cioè richiede una buona dose di adattamento che poi ti torni e ti senti un po' devi riadattarti in italia processo inverso mentre sarà come lavorare in uno staff internazionale quali sono i pro i contro i contro non te li so dire perché sono perché è bellissimo quindi non te lo so dire non è la i pro sono che cioè che che cambi proprio prospettiva cioè che continuamente impari dagli altri ti decentri un po' dall'essere noi abbiamo molto questa questa caratteristica noi italiani che siamo italiani che siamo molto italiacentrici insomma quindi è una cosa che che ho trovato spesso anche che mi dicono ah ma sei italiana no non cucino io tanto tu ti lamenti si lamenterei a prescindere no non ho detto niente quindi è è un momento di condivisione in cui ti ti togli dall'essere tu il centro per essere tu la la cultura quella migliore e accetti la cultura dell'altro la le usanze dell'altro che vivi in casa con io vivevo in casa con un ragazzo pakistano un ragazzo del chad una ragazza una dottoressa è turca e una un ragazzo francese uno svizzero e una coordinatrice di progetto era norvegese e un altro ragazzo era del dell'angola quindi sì una bella casa mix sì quindi ognuno ognuno porta qualcosa di sé cioè accettando l'altro quindi cucinare insieme per esempio era bellissimo avete tirato fuori delle ricette strane sono tante condivisioni sì bello arriviamo un po la domanda scottante in media quanto guadagna un infermiere medici senza frontiera e quali sono quelle possibilità di carriera per per l'infermiera ok allora sì te lo ve lo posso dire tanto è tutto sul sito cioè se andate sul sito msa punto it benefit per il personale c'è scritto quindi sono 1700 lordi quindi ovviamente si spera che chi parte con msf non lo faccia per per una questione di stipendio perché non è non è non sarebbe un'idea molto furba però c'è possibilità di crescita quindi l'infermiere all'interno di eh medici senza frontiere è una figura molto versatile che eh continuando a fare missioni con medici senza frontiere o addirittura non come faccio io ma proprio lavorando solo con medici senza frontiere si cresce tantissimo si possono avere posizioni di 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 responsabilità proprio perché l'infermiere ancora di più del medico è una figura che può stare anche esterna al progetto non solo essere una figura clinica ma proprio essere un un referente medico un coordinatore di progetto insomma è una è una figura molto molto richiesta e molto versatile sì perfetto 1700 lordi quindi non è non è tanto è uno stipendio normale ma c'è da considerare comunque la copertura sanitaria che compresa l'alloggio che compreso le le spese di di spostamento per per arrivare in missione quindi sì cioè sei sei coperto una una diaria che viene riconosciuto una diaria giornaliera per vivere lì senza spendere quindi non si fa per soldi ma è dignitoso sì sì diversa dall'ospedale comunque ti fa capire un po' le due facce della medaglia comunque l'infermiere la figura è quella però il lavoro è totalmente totalmente diverso e io vorrei fare le ultime due domandine se me lo concedere allora cosa porti sempre con te nelle missioni sono curioso e cosa ti porti invece a casa dell'esperienza appena vissuta allora cosa porto con me in valigia porto con me cibo sempre caffè formaggi tigelle taralli sono un po di cose per rompere il ghiaccio per far felice un po tutti quando lì cioccolata a ruota proprio cioccolato di solito un barattolo così insomma di nutella lo posso dire però sì insomma per cercare di creare un po' una di rompere il ghiaccio quando non arriva e fa sempre contenti tutti il cibo unisce tutti sì il cibo unisce tutti lo portano soprattutto il cibo tagliato e poi mi porto delle foto di solito da mettere in camera per creare un po l'ambiente e per sentirmi comunque a casa anche nella mia stanza e libri in caso di grave solitudine di solito si porto libri il kindle cose da leggere film e musica poi non li usi così tanto perché alla fine stai molto tempo insieme anche quella la cosa bella però comunque sono cose da molto utili da portare e cosa mi porto a casa ti porti ti porti degli occhi diversi cioè ti porti un cambiamento che che ti resta cioè che non riesci neanche a spiegare ma ti porti proprio una prospettiva diversa e quello che cerchi di fare quando torni infatti che è quello che sto facendo anche adesso è cercare di creare dei ponti tra quello che hai visto e in quel mondo e quello che vorresti passare a questo mondo che sembra di stare un altro mondo cioè cercare di stabilire una comunicazione quindi cerchi di portare un po di di quella quel contesto qui ed è quello che sto cercando di fare perché proprio ti cambia ti cambia sguardo la prospettiva la prospettiva ti facciamo veramente complimenti ti ringraziamo anche perché come diceva all'inizio tu hai avuto la possibilità di conoscere da studente no quegli infermieri che ti hanno dato ti hanno fatto conoscere questo mondo magari questo poi può valere anche per noi e per le persone che che ci stanno seguendo quindi grazie veramente per la tua disponibilità per essere stata qui con noi oggi per averci dato no questa questa immagine molto suggestiva di medici senza di medici senza frontiere della possibilità di carriera che abbiamo e ricordo a tutti che sul NERS24 potete trovare altre informazioni sul mondo di medici senza frontiere e se avete qualcosa da raccontarci se volete condividere con voi con noi le vostre esperienze delle curiosità delle problematiche noi saremo lieti di organizzare il prossimo turno con voi potete scriverci anche su retazione che ho c'è la NERS24 punto it utilizzando i vari canali social grazie ancora a Sara per averci raccontato la tua esperienza e al prossimo turno sempre su NERS24 punto it ciao a tutti buon pomeriggio ciao 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 ciao